Durante un'annata ancora condizionata dalla pandemia, il Comune di Montevarchi ha deciso in un modo diverso e innovativo di regalare ai bambini della nostra città due domeniche di pieno carnevale. Questo è stato possibile grazie al coinvolgimento di tutte le associazioni del nostro territorio, quindi quest'anno più che mai è stato un carnevale partecipato a tutte le realtà montevarchine. Ringrazio quindi Montevarchi Arte, Filatelli ce ne sono una tradizione, ringrazio naturalmente il Comitato del Carnevale, Varchi Comics che ha disegnato le mascherine che poi sono state dipinte dai bambini dei nostri tre comprensivi, quindi una partecipazione attiva anche dei bambini in prima linea che poi verranno premiati per il loro impegno, ma anche appunto una novità che è quella della partecipazione del Comitato del Pestello che è uscito dalla loro sede dove ogni anno fosse un concorso della mascherina più bella, quest'anno si sono resi disponibili appunto a venire in Piazza Varchi e sarà domenica una giornata di premiazioni. Una giornata di premiazioni per questi bambini che hanno appunto disegnato le mascherine appise agli archi della Via Roma, per la mascherina più bella, per quei bambini appunto che hanno sentito particolarmente questo Carnevale e di cui ne hanno anche particolarmente bisogno visto il momento ancora difficile. Quindi un modo per renderli ancora più partecipi e per cercare di svolgere comunque un momento dell'anno per loro importare. È stata volontà dell'amministrazione di non rinunciare alla festa del Carnevale che è una delle feste tradizionali più antiche della città e soprattutto coinvolge i bambini. Per noi il coinvolgimento dei bambini è essenziale, l'abbiamo fatto per il Natale, ci siamo ripetuti per il Carnevale. Tra l'altro i bambini, come tutta la comunità, si viene da un periodo storico terribile, per loro maggiormente complicato perché rinunciano a quei momenti di socializzazione che sono importanti per la loro crescita e per il loro sviluppo.